nascondendo ai vostri figli spaventare i bambini un accidente ribatte mio nonno alzando il tono finirete per illudere i vostri figli che la vita sia tutta una festa mio nonno non riusciva a credere alle proprie orecchie per lui io e mia moglie eravamo degli alieni che nascondevamo ai figli i mali della vita mia moglie lo sorreggeva per la spalla lui fece per scostarsi ma una fitta saettò lungo il braccio e lo fece irrigidire voi pensate che nascondendo ai vostri figli la mia malattia o l'ospedale o il male in genere non parlandone mai gli educate bene disse perché come li dovremmo educare chiese infastidito li dovreste avviare alla vita con una maggiore onestà educativa perché la vita nella condizione umana non è rose e fiori è una dura scuola evolutiva voi educate i vostri figli come se la vita che troveranno non avesse il male non avesse il dolore invece dovranno imparare anche il dolore stai bene nonno dissi per farlo tacere sto bene sto bene borbottò lui trascinandosi verso la poltrona siete tu e tua moglie che non avete capito perché vivete ed educato ai male i vostri figli vedi disse fino a quando ho avuto 60 anni ho sempre pensato di allungare la mia vita poi ho intuito che non la dovevo allungare ma che per viverla al meglio la dovevo allargare e ho capito che sono nella condizione umana che è molto materiale per crescere è poco per godere perché di godimento alla fine ce n'è poco